Con Gabetti sei già a casa. Gabetti Vallo di Diano vi aspetta a Silla di Sassano. Noi prestiamo grande attenzione alla realtà della scuola e credo che il sistema paese debba molto alla scuola. Non abbiamo mai fatto a sufficienza rispetto a quelle che siano le giuste attese, perché ovviamente è lì che si formano le future generazioni. E quindi noi abbiamo invece questo rapporto molto intenso, lo abbiamo con le nostre giornate di Unisa Orienta, che oramai sono diventate famose, a cui anche la scuola ha partecipato, cioè ne abbiamo concluso da poco con questa manifestazione di punta, con 110 istituti scolastici provenienti da varie regioni e dalle province. E credo che questo dialogo sia importante, perché poi la scelta più difficile nella vita dei giovani è quella di se continuare e che tipo di studio intraprendere, perché tutti sappiamo che purtroppo dopo il primo anno dell'università ci sono ancora troppi abbandoni e troppi cambi di corsi di studi. Allora orientare, e lo si può fare ovviamente nella nostra università, perché è decisivo anche far conoscere le strutture che sono un po' fino all'occhiero del nostro Ateneo, però lo si può fare anche sui territori, su un territorio che per noi è importante e strategico come quello appunto del Vallo di Diano. Quindi occasione come questa, io ho ricevuto un invito garbato da parte del dirigente scolastico di essere presenti, mi avevo assunto questo impegno e io di regola gli impegni li mantengo. Quindi oggi sono ben lieto di poter incontrare i docenti e poter incontrare gli studenti e poter parlare loro anche con un linguaggio semplice, anche frutto della propria esperienza personale, perché poi i treni nella vita passano solo in certi momenti. Quindi capire quando possa essere importante fare un percorso universitario e farlo in maniera seria e partire già con lo spirito giusto, perché oggi i tempi sono brucianti, a agosto ci si immatricola di testa, a settembre cominciano i corsi, quindi i tempi sono brucianti e bisogna partire subito bene perché se non si parte con lo spirito giusto poi si rischia di cominciare male e quindi poi il rischio di diventare fuori corso è molto elevato. Allora ben vengono occasioni come questa, ripeto, anche però per dare attestato rispetto al lavoro svolto. L'Università di Salerno, Fiorallocchiello, per il Sud potrebbe essere sicuramente un punto di partenza, ma in effetti parliamo del futuro dell'Università stessa. Dove punta oggi? L'Università oggi punta, la nostra Università punta ancora di più a consolidare quel processo di crescita che c'è stato in questi anni. Noi abbiamo avuto la fortuna di strutturarci in campus, nei due campus gioiello di Fisciane e di Baronissi e questa è stata la carta vincente, perché stare tutti quanti insieme ha aumentato la capacità di ricerca e anche la capacità di un'offerta formativa con certe caratteristiche anche un po' interdisciplinari che oggi è indispensabile. Le classifiche nazionali ci hanno portato alla ribalta perché quest'anno siamo finiti nella classifica del Sole 24 Ore che è la più autorevole al quindicesimo posto in Italia e ovviamente chi conosce la storia del Sud sa che non ci sono classifiche in cui realtà del Sud emergono a questi livelli. E credo che questo percorso anche di affetto del territorio, anche di riconoscenza, anche di reputazione sia il viatico per poter procedere ancora più speditamente verso quel processo di internazionalizzazione sempre più spinto che oggi è decisivo perché ovviamente internazionalizzare l'Università significa portare studenti da fuori, portare i nostri fuori e questo già accade, ma portare da fuori, portare i docenti, insomma fare in modo che diventi un punto di riferimento anche al di là dei confini nazionali. Questo insomma è l'obiettivo. E poi formare giovani di qualità perché noi sappiamo che nel Sud le difficoltà ci sono. Viviamo in un contesto territoriale che è molto penalizzante ovviamente, innanzitutto per l'assenza di un tessuto economico forte, per cui sappiamo che dobbiamo supplire qualche volta anche a qualche difficoltà degli enti territoriali perché i deficit economici non hanno risorse e allora dobbiamo cercare di fronte alle difficoltà in un contesto così complesso ma anche così bello e così meritevole di attenzione di dover raddoppiare gli sforzi. Insomma, quindi credo che occasioni come queste servano anche per restituire qualche cosa al territorio, un territorio che ci ha dato molto perché se siamo cresciuti anche come numero di immatricolati significa che evidentemente è un territorio che ci presta particolare attenzione.